20 anni orsuno, lanciamo il primo sguardo al mondo magico. Cosa significa non toccare niente? È un mondo che incanta l'ordinario, ha mali ai sensi. E dà sfogo all'immaginazione, credo che sia chiaro che noi possiamo aspettarci grandi cose da lei. È un'occasione per rivedere vecchi amici e fare la conoscenza di amici nuovi, che sia su una pagina, su un palcoscenico o su uno schermo. Fa tutto parte di un mondo che ha ispirato il nostro. E nuove avventure sono all'orizzonte. Allora, chi sei, mago? Le cose sono alquanto diverse qui. Tu abusi del mio tempo. Che cosa ti serve? Immaginate che sia una specie di… Rilevatore magico di impronte digitali. Allora, terminate le lezioni, siete tutti miei. E a me piace che le mie cose funzionino bene. Perciò vi allenerete ogni giorno. Scoprite il vostro talento. Affinate il vostro talento. E alla fine persino tu combatterai come lui. Diventerai una forza del bene e uno stregone molto importante. Ma per ora sei il mio apprendista. Forte. La magia può essere pericolosa, come tu ben sai. È meglio che torni a casa, grand'uomo. Un aiuto verrà sempre dato a Hogwarts a chi se lo merita. Film, un aiuto verrà anche il trilogy.